Ok, ciao a tutti ragazzi, qui è Sorrento, una droga che parla e siamo qua di nuovo con Auron the Guardian, finalmente ritornato! Va bene, allora siamo sulla custom map, la Void Unbound con la shaders per me e per Auron niente E' una skyblock un po' diversa, fatta decentemente grazie ai command block Quindi, beh, come prima cosa nelle skyblock, sappiamo cosa fare Ma, aspetta, quindi quella figata che ho visto quando sono spawnato erano command block? Sì, è tutto vanilla, e quelli sono command block Oddio! Ok Mi trasformo due su tre, eh? Esatto, anch'io faccio due su tre Sempre meglio mantenere un po' gre... Sapling! Ok, ho fatto la crafting Ripianto il sapling? Eh, sì, va bene Abbasso un attimo i DPI Del mouse DPI sarebbe per... Scusa, la mia ignoranza Dot per inches, è la sensibilità del mouse Ok Intanto mi metto a spaccare la roccia con le mani, no scherzo Uh, c'è l'alberaldo che si muove Aspetta, spasati da qua che inizia a fare una scaletta Per un attimo avuto pure che cadessi, sorrento E' stato orribile No, no, no Ok Eh, tu sai quanto è profonda quest'isola, vero? Eh, sì, sto sul lato così vedo Più o meno la storia è quella Ok, sono arrivato all'ultimo layer Perfetto No, per sentire una... Ah, non è bello Allora, intanto io prendo tutti saplings, due dovrebbero anche già bastare Ok, rialzalo di DPI perché sono troppo lento Devo trovare, devo mettere una mia, una via di mezzo nei DPI Ah, una cesta Con un pipistrello Oh, cesta Eh, aspetta che ti spacco sopra se non la puoi aprire Aprile Ah, no, aprile tu, hai la videocamera Acqua, lava, femi Al borcello lo prendo io Ok, vabbè, acqua, acqua, fonte di finita Lava, cobblestone genere E la mappa vuota la tengo nell'inventare, si sa mai Sì, serve un cavolo Cioè, non credo serve a niente Però va bene Allora Che ne sai Ma, credo Prendo anche tutta la cesta, eh Eh, va bene, sì, 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 va bene Allora, con l'acqua ci facciamo subito una fonte infinita Sì Ok E poi vediamo invece cosa fare col resto Io spacco un po' il dirt lasciando solo il blocco lì Almeno ho la possibilità di far crescere più alberi contemporaneamente Allora, come sappiamo È una mappa Che Eh Utilizza dei macchinari Per Per fare molte, molte, molte cose Questi macchinari in pratica sono dei Dei macchinari multiblocco Cioè Noi facciamo una struttura Poi ci mettiamo con uno stick in mano E la struttura si genera Ok? No, non ho capito Eh, adesso ti faccio vedere appena costruiremo il primo macchinario Perciò devo aprire internet per vedere come si fanno i macchinari Perché non li ho imparati a memoria Ah, donazione, ho pensato un blocco di coble per sbaglio Vabbè, adesso lo spacco io Oh, finito il piccone No, no, lo spacco un cazzo Non lo spacco un cazzo Finito il piccone No, lo spacco un cazzo E fai tutto Eh, a legno, a legno Bravo E intanto Io vado a vedere La Il primo macchinario Come si fa Ok Tu lo dici No, sì, ma devo facing north Ok, abbiamo fatto Abbiamo Ho visto Come si fa il primo macchinario Il primo macchinario si fa con una base 5x5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Servono 73 pezzi di cobblestone Un secchiello di lava E uno di acqua Ok, io ti passo Intanto sta fermo che ti passo dei biscotti Bene Te ne devo uno in più perché stai lavorando È lì la tua razione Ok Aspetta che Intanto che ci siamo Faccio una fonte d'acqua Mi scavi? No Sì, sì, certo Cioè fai tipo Esatto Preso Una fonte d'acqua infinita, esatto Ok, per cui allora dovrò fare Anche così, immagino Ti sei messo in mezzo Hai distrutto il blocco No, c'era ancora in mano È un bug Ah Aspetta allora Faccio così Ok Fonte d'acqua infinita Pezze Mi serve Del solito coso 3x3 Aspetta Questo Guarda Facciamo una Una volta la sapevo anche fare Toro giuro Puoi fare una roba del genere Allora Questo qui Mi sembra che Allora Aspetta un attimo Che intanto io metto Tutta la cobblestone qua Che serve Così vediamo Quanto ce ne avanza In caso faccio una Faccio delle slab Per contenerla Almeno sperchiamo Meno cobblestone possibile Sì 5x5 25 Giusto perché Devo ricoprire tutto Quindi Io posso Eh sì Posso farla Una slab Uff Ok Già mi sento meglio Ok Tac 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 Posso farne anche Di più volendo E se sta calmiando nel vuoto Dammi un attimo Il piccone T'ho la picca Ok Ce l'ho fatta Eh sì Riesco a farne Remember I'm watching you Ehi Mi spio Ok Sì A posto Abbiamo una fonte d'acqua infinita A me non sembra così infinita Sì è infinita Infinita Ok Fonte d'acqua infinita Fatta Adesso dobbiamo fare Soltanto Così Qua la lava E poi Io ti prego Fa che funzioni Spostati pezze Subito Intanto piazzo anche la cesta Devo ricoprire tutto Devo ricoprire tutto Hai uno stick Fammi uno stick Ti faccio subito uno stick Ole Aspetta te lo lancio su Ok Con uno stick Vediamo se funziona Aspetta Ok 3 2 Dai fallo fallo Ecco qua Cobblestone generator E tu cosa sei? E questo Ogni tanto sputa cobblestone Figo Quindi Non È meno pallosa Di una normale Oh per fortuna Ero stanco di rompere ogni volta il blocco Ok Ma ne genera Avangate Sì ne genera tanta È molto 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 comodo Beh tu Continua a fare I cazzi tuoi Io Ok Essendo questo un server Ovviamente se lo lasciamo aperto Dopo un po' Farà Farà cobblestone Non da sola Cioè Proprio Appalate No Perciò No adesso ancora non possiamo farlo Più avanti faremo un metodo per raccoglierne in automatico Così noi lasciamo il server andare a Mentre noi non siamo dentro E lui ci fa cobblestone Sicuramente E bene Adesso sto pensando alla farm Ok dimmi Farmi alberi Innanzitutto dovremmo farci delle sponde qua Perché altrimenti finiamo giù Ah aspetta aspetta Ti faccio dei muretti Esatto No li sto facendo già io Troppo tardi Ah Vabbè tanto non basteranno Io inizio un'operare di qua No vabbè faldi esterni Tipo così Ah Guadagniamo spazio Ai faccio un piccone Faccio io Faccio io Fatto un piccone Non si sa mai Sempre Vabbè sì Tanto adesso abbiamo la cobblestone infinita Tipo Fuck the police Allora Va bene A posto Prendo un'altra cobblestone E tanto Ma qua poi la fa Vabbè c'è la fonte No non mi fido Va bene Di me stesso Ok Mi conosco troppo bene Per fidarmi di me stesso Legit Ok Dobbiamo ampliare l'isola però eh Ovvio Non voglio stare in questo buco di culo Esatto Quindi vai inizio ad ampliarla Sì sì Io intanto faccio Il murettista Così possiamo metterci anche a fare l'altro macchinario Già A proposito In che quantità e quanto spesso spawnano i mob? Non ho la più palida idea Cioè dipende da tanti fattori Beh io mi sono fatto una spada Vabbè Qua aspetta che te lo tolgo una Lo tolgo un attimo perché Adesso con il fatto che stiamo ampliando Dammi la cobblestone Tutta la cobblestone Piove la cobblestone Sud di me E me ne ha dato un pezzo solo perché il resto c'è tutto tu Non ci credo Lo ripresa vai Prenditela Ma che bel sole Dov'è il sole? Dietro di te Lì Non lo vedo io con la scelta Ancora La scelta Il fuso orario Più o meno Ok adesso inizia a vedere un po' di luce Però non vedo ancora la palla gigante Eccolo vedo la palla gigante Cose compromettenti Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp antoglio del citico ok allora siamo tornati abbiamo espanso un po' la varia la base abbiamo fatto lo spazio per il prossimo macchinario ed è nato un albero quindi gg per noi quindi prendiamo subito sto albero mi servono 4 log per il macchinario e poi il resto possiamo farci del legno e c'è un cazzo di piccone da quando è caduto si è ammazzato si va bene buona idea si cioè due log ti van bene certo che mi van bene a posto qua ci siamo questo perfetto ci vediamo ci arrivo subito mi suicido perché sennò spreco la fame ciao ne dalle all'africa va bene allora perfetto ciao adesso mi senti dico subito il necessario per costruire il nostro nuovo macchinario che però faremo nel prossimo episodio ciao a tutti ciao ciao